Nuovo furto di rame. I ladri sono entrati in azione durante una delle scorse notti ad Imperia all'esterno della chiesa di Santa Maria Maggiore che si trova alle spalle del quartiere di Castelvecchio e nella diacente Casa Canonica. Ad essere presi di mira sono stati tutti i tubi di scolo che raccolgono l'acqua piovana dai tetti e dalle grondaie. I soliti gnoti hanno lasciato solo le parti in ferro e in ghisa che hanno abbandonato per terra portandosi via le sezioni di rame. Nessuno si è accorto di nulla e la scoperta è stata fatta la mattina seguente da alcune persone che si stavano recando nel vicino cimitero. Potrebbe trattarsi di una banda specializzata visto che furti di questo tipo ormai non sono più una rarità un po' in tutto il nord Italia. Probabilmente i ladri erano più di uno. Per raggiungere i tubi e sganciarli da quelli in ferro hanno forse utilizzato una scala.